Renzi a Teramo non è entusiasma e non delude. Un'accoglienza pacata, quella che i Teramani hanno riservato al leader di Italia Viva che ha presentato in Piazza Sant'Anna il libro La Mossa del Cavallo, di cui è l'autore. Uno stratagemma il suo già visto, quando era in corsa per diventare segretario del Partito Democratico, Renzi presentò nel 2012 al Cursal di Giulianova l'altro suo libro dal titolo Stilnovo. Allora l'accoglienza fu molto più calorosa. Il rottamatore era una novità. Oggi è un déjà vu che non appassiona troppo, anche quando il leader di Italia Viva ricorda che, grazie al suo governo, l'Abruzzo ha ricevuto uno stanziamento di 2 miliardi di euro. Un Abruzzo che è diventato anche laboratorio politico, viste le alleanze che Renzi sta attuando a Chieti con il centrodestra. Io penso che sia importante che intanto in Abruzzo, come in tutto il resto del paese, le cose si facciano concretamente e per farle concretamente bisogna passare dalle parole ai fatti. Quindi bisogna che i cantieri finalmente partano. Abbiamo messo nella scorsa legislatura 2 miliardi di euro per l'Abruzzo, questi 2 miliardi vanno spesi. Poi sulle dinamiche amministrative locali naturalmente rispondono i territori locali, ma la cosa interessante è che Italia Viva c'è e c'è per concretizzare i progetti e i denari che già abbiamo messo. Renzi ribadisce che il suo partito a Teramo si è costituito ed è solido. I coordinatori provinciali sono Maria Cristina Marroni e Vincenzo Di Marco, quelli comunali Dodo di Sabatino e Lucia Verticelli. L'ultima domanda rivolta a Renzi è se lui sapesse che la maggior parte dei vertici territoriali di Italia Viva allora si era pubblicamente espressa contro il suo referendum costituzionale votando no. È una domanda che purtroppo resta senza risposta. Matteo è già andato via alla fretta indiavolata di un cavallo.